guardate che acqua nera ragazzi c'è proprio un fango in questo impianto incredibile l'acqua è nerissima madonna oddio ciao in questo video voglio farvi vedere una pompa per lavaggio di impianti di riscaldamento e voglio anche spiegarvi il motivo per cui gli impianti devono essere lavati almeno ogni dieci anni o almeno ogni volta che si cambia la caldaia il generatore di calore perché praticamente le caldaie vecchie hanno i tubi molto più grossi di delle caldaie di oggi che sono a condensazione e hanno i tubi molto più piccoli all'interno e anche i motorini le varie di tre vie tutto è fatto in una maniera diciamo molto più piccola ok i passaggi di acqua sono molto più piccoli e quindi lo sporco che sia si è accumulato nell'impianto durante non so 20 anni 30 anni di funzionamento se noi togliamo la caldaia vecchia e mettiamo su quella nuova senza lavare l'impianto praticamente in due tre anni cominciamo ad avere problemi con la caldaia e questi praticamente sono fuori garanzia quindi se magari sintasa scambiatore secondario scambiatore primario se magari si brucia il motorino della valore tre vie non sono coperti dalla garanzia ok quindi adesso vi farò vedere una pompa con cui noi laviamo l'impianto ecco raga praticamente con questa pompa qua noi laviamo l'impianto come funziona questa pompa praticamente qui va inserita va messo il tubo dell'acqua fredda ok ci attacchiamo l'acqua fredda alla questa pompa qua qui c'è un compressore che praticamente riempie questa bombola qua di aria qui inseriamo l'acqua fredda qua da quest'altra parte non so se si vede bene c'è un attacco ok dove dobbiamo mettere il tubo e questo tubo lo colleghiamo con la mandata dell'impianto il tubo che viene dal ritorno lo inseriamo dentro insomma nel cesso o non so dentro uno scarico ok per poter mandar via l'acqua sporca vi farò vedere adesso nel video come facciamo come facciamo realmente un lavaggio questa questa pompa qua praticamente funziona con pressione di aria intermittente cioè io da qui regolo da questo pulsante qua regolo a quanta pressione voglio spruzzare l'aria ok quindi da questo serbatoio c'è una valvola che fa partire l'aria e lo spinge nell'impianto all'interno del termo si crea un vortice ok come se tu prendessi il termo in mano e lo scuoti ok come se tu lo lavi con con la canna fuori in giardino quindi questa pompa qua spruzza una pressione d'aria e fa uscire tutto lo sporco dall'impianto adesso ve lo faccio vedere come come viene fatto il lavaggio con questa pompa qua ed eccoci qua in cantiere raga come vi avevo detto praticamente questo tubo giallo che è di gas ma è collegato sull'acqua vedete che l'ho collegato qui dopo il bicchiere dell'acqua l'ho collegato alla sinistra di questa pompa e dall'altra parte ho preso l'altro tubo ok l'uscita della pompa e l'ho collegato sulla mandata dell'impianto prima di togliere anche la caldaia poi dopo il ritorno l'ho collegato ad una ad un tubo normale ad una canna ok che andrò ad inserire siccome è dentro questo bagno qua non c'è un cesso e non c'è uno scarico libero ma ho qua vicino una doccia toglierò praticamente il tappo di scarico della doccia e inserisco questo tubo all'interno dello scarico che non fa male praticamente pulirò anche lo scarico perché la pressione dell'acqua spingerà adesso apro l'acqua fredda ok praticamente l'acqua fredda circola tramite la pompa non ho ancora fatto partire la pompa praticamente la faccio girare un po ok senza far partire la pompa perché non va bene fare partire cioè dare subito i colpi ok appena appena che colleghi la pompa vedete già come l'acqua comincia a uscire fuori nera molto nera insomma ci voleva proprio un lavaggio qui c'è sul muro presente c'è una caldaia riello con bollitore guardate che acqua nera madonna ragazzi c'è questo bisognava proprio fare il lavaggio su questo impianto madonna stavo uscendo fuori di nerissima petrolio ma e non non ho neanche fatto partire la pompa questo è solo è solo la pressione dell'acqua che spinge fuori l'acqua presente nel pianto guardate che ne erano madonna che ne era praticamente nero di seppia vedrete quando farò partire la pompa l'acqua verrà ancora più nera adesso sta cominciando vedo a venire un po più chiara ok quindi vorrei anche far partire la pompa lo lasciamo un altro po guardate che roba però prima di fare di far partire la pompa bisogna assicurarsi che le valvole di tutti i termini di tutto l'impianto valvola e detentore siano bene aperti ok controlliamo la valvola controlliamo il detentore questo è metà chiuso quindi bisogna aprirlo cacciavite taglio e lo apriamo del tutto nel modo da far circolare bene l'acqua adesso facciamo partire la pompa ok parte il compressore e comincerà a spruzzare dentro la pressione dell'aria praticamente ho impostato come pressione di aria 5 bar di pressione quindi immaginatevi che è una bella pressione che spinge non ha ancora cominciato ma vedete come come anche la pressione dell'acqua è aumentata rispetto a prima adesso sta cominciando a uscire praticamente io adesso li faccio fare un giro ok cioè prima di chiudere e di lasciare soltanto un termo io li faccio fare un giro su tutto l'impianto con tutti i termini bene aperti nel modo che la maggior parte dello sporco esce fuori perché poi dobbiamo chiudere tutti i termini e lasciare soltanto uno nel modo che tutta la pressione che la pompa manderà su l'impianto ok andrà su un unico termo e bisogna fare così per tutti i termini quindi se tu hai 10 12 termini bisogna chiudere 11 ok lasciare soltanto uno aperto e lavare uno ad uno quindi poi più di quello che è lasciato aperto e ne apri un altro e così via per tutti quanti i termini via viene fuori in acqua ma più che altro non è diciamo che quello che danneggia di più non è l'acqua nera e più che altro vedete che c'è un po di sporcizia che rimane sul fondo ok vedete che rimane nel tipo sabbia ma quella lì e ruggine aspetta che adesso cominciato a venire fuori la pressione dell'aria quindi abbiamo fatto tutto il giro dell'impianto faccio attenzione che non faccio casino tanto casino nel bagno ok è un po cosa esce fuori c'è acqua è nerissima sembra petrolio sembra guardate cosa viene fuori c'è una roba incredibile ragazzi purtroppo il lavaggio dell'impianto è importantissimo prima di cambiarle la caldaia bisogna fare assolutamente il lavaggio dell'impianto specialmente se l'impianto ha più di dieci anni di funzionamento guardate cosa viene fuori cosa rimane sul fondo della doccia proprio tutta la ruggine tutto lo sporco che sta tirando fuori dall'impianto adesso che abbiamo fatto tutto il giro dell'impianto chiudiamo indietro tutti i termini chiudiamo questa volta solo la valvola ok di tutti quanti i termini e apriamo soltanto il termo dove andremo a fare il lavaggio vediamo cosa esce fuori adesso praticamente adesso stiamo tirando fuori lo sporco soltanto da un termo vedete come anche la pressione è molto minore rispetto alla pressione che c'era prima vuol dire che il passaggio di acqua ok di circolazione e da qualche parte intasato su o sulla valvola o sul detentore vedete come adesso sta cominciando di nuovo a venire l'acqua fredda guardate guardate che nera che facciamo partire la pompa ok che adesso comincerà a spruzzare per neanche un po di acqua bisogna che sistemo quella perdita ma adesso intanto vediamo cosa cosa tirerà fuori siccome questo è l'ultimo termo praticamente in fondo l'ultima camera in fondo dell'impianto quindi l'acqua l'acqua nera ci metterà un po per arrivare il lavaggio dell'impianto termico fa sì anche che il termo si scaldi tutto cioè se voi avete magari i termi che scaldano solo sopra e sotto sono freddi questo è un segno che bisogna fare il lavaggio dell'impianto nel modo da farlo da pulirlo e da farlo scaldare tutto 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 il termo perché lo sporco si deposita in basso e non fa non fa scaldare l'acqua non riesce a scaldare il termo guardate che comincia a uscire l'acqua nera quindi pensate che questo è soltanto un unico termo quindi guardate cosa esce fuori vedete come butta fuori anche tipo delle piccole particelle ok di ferro che escono fuori quelle particelle la andavano a finire tutte quante nello scambiatore secondario nello scambiatore primario della caldaia nuova guardate che acqua nera che viene fuori guardate mamma mia quindi questa cosa qua cioè questo lavaggio va fatto per ogni singolo termo in parte poi alla fine si rifà un altro giro su tutto l'impianto ok e dopo praticamente possiamo anche collegare la nuova caldaia mi metto lo scarico dentro andiamo a chiudere indietro il termo che abbiamo appena lavato ok lo chiudiamo bene e andiamo ad aprire un altro termo di questo impianto andiamo ad aprire quello in corridoio che fino adesso è stato chiuso ok apriamo bene la valvola e questo va fatto per ogni singolo termo in parte questo è il risultato finale dopo aver lavato tutti i termi e lavato tutto l'impianto praticamente l'acqua è pulita ok non è più nera come era all'inizio ed eccoci arrivati alla fine del video vi ho fatto vedere come funziona una pompa per lavaggio di impianto termico vi ho spiegato come funziona vi ho fatto vedere l'acqua all'inizio del lavaggio dell'impianto che era nerissima ok e dopo aver fatto il lavaggio l'acqua era chiara ok ci si mette 45 ore per fare un lavaggio del genere però ne vale ne vale veramente la pena perché uno puliamo l'impianto i termi scaldano di più si spende meno gas e anche la caldaia dura di più perché se un impianto è pulito ok non si intasa non si intasa né il scambiatore secondario nel primario le valvole motorizzate funzionano benissimo all'interno della caldaia insomma ci sono più pregi che difetti c'è questo lavaggio non fa altro che bene al nostro impianto e alla caldaia raga grazie di aver guardato questo video ci vediamo nel prossimo ciao